Buon pomeriggio. Eh, sono leggermente in ritardo. Avevo detto alle 15, siamo alle 16 e 36. Ma ne ho dovuto ponderare per bene tutto il discorso di ben 14 minuti di Lisa Barrett sulle emozioni e poterle sintetizzare in modo da mettere in evidenza facilmente la differenza fra me e la Barrett. Perché, stranamente, la Barrett in molti suoi passaggi, soprattutto all'inizio, sembra essere d'accordo con me sul concetto di emozioni e su che cosa sono le emozioni. E ora rileggiamo qualche passaggio che ho messo in evidenza e poi rileggiamo i passaggi dove in realtà sembra che stia partendo dal mio stesso presupposto, ma in realtà non sta partendo dal mio presupposto. Non sta partendo dal presupposto qual è la causa, il nocciolo da cui nascono le emozioni. Lei, per fortuna, a differenza di molti altri psicoterapeuti che si mettono a fare semplicemente delle fotografie e poi in modo tautologico dicono questo è bene, questo è male, si risolve così, quindi lei almeno ci fa la grazia di dirci chiaramente qual è la causa per lei delle emozioni. La causa delle emozioni io ora ve la leggerò, vi descriverò, ci sono tre punti fondamentali di questo suo discorso e che poi svilupperemo e ci ritorneremo sempre sopra e vi farò notare come le stesse, partendo da questi tre punti, in effetti va in contraddizione con quello che afferma all'inizio. All'inizio cosa prego? Di cosa sono fatte le emozioni? Questa è la grande domanda. Io, quelli che mi conoscono, sanno rispondere a questa domanda. Le emozioni, c'è prima un pensiero, poi ci sono le emozioni. Le emozioni vuol dire, è muovo, mi muovo da uno stato di quiete. Ma chi è che mi muove da questo stato di quiete è un mio pensiero. La causa è un pensiero. Ecco dove ci sono dei punti in comune. Barrett dice, docente non ci interessa, direttrice non ci interessa, nel suo libro ci dice che ci dà una nuova prospettiva sulle emozioni che io, tanto nuova, non la vede, uguale a quelle di prima. Il frutto sono il frutto delle interpretazioni del nostro cervello ai cambiamenti sensoriali. Beh, questo punto qui, sono il frutto delle interpretazioni del nostro cervello ai nostri cambiamenti sensoriali, ebbe direi che quasi comune a tutta la psicologia moderna. Inizialmente le emozioni venivano viste, si parlava di innatismo emotivo, come se fossimo nati emotivi, ora si è modificato un po' questo discorso. Non si parla più di innatismo emotivo, ma si parla di interpretazione del nostro cervello ai cambiamenti sensoriali. Quindi noi abbiamo dei cambiamenti sensoriali e la causa di questi cambiamenti sensoriali dipende dallo squilibrio, dall'equilibrio del nostro corpo, cioè da un fatto fisico, oggettivo. Vedete, sono il frutto delle interpretazioni del nostro cervello ai cambiamenti sensoriali. Una prospettiva dunque che pone noi stessi in grado di controllare le nostre percezioni. È come se questa prospettiva ci disse l'arma per controllare le nostre percezioni, ma non ci dice se tramite questo controllo delle percezioni, come si controllano queste percezioni, perché anche qui si dà per scontato che il nostro cervello possa rispecchiare, fedelmente le percezioni, cioè come qualcosa di semplicemente esterno, come qualcosa che viene da fuori e noi lo rispecchiamo. Quindi c'è un'idea, una mappa cognitiva. La differenza nella mappa cognitiva, la nostra Barrett d'Ape scontato con questo cervello, vede correttamente, percepisce correttamente, percepisce le reazioni emotive, percepisce queste percezioni, dopodiché le interpreta, ma percepisce queste cose. Una nuova prospettiva dunque in grado di controllare le nostre percezioni, quindi come dire se controllo le mie percezioni va a finire che controllo anche le mie emozioni, solo che qui, partendo da questo presupposto, su cui mi potrei essere perfettamente d'accordo, basta che io so da dove nascono le mie percezioni, se la mia mente è in grado di percepire correttamente le mie stesse percezioni, e come la mente può fare per cambiare percezioni, da dove nascono queste percezioni, se la mente vede correttamente o no, e quando posso vedere correttamente. Uno dei punti chiave, infatti, ecco, qui viene usato un termine, sembra un termine scientifico, ma se lo traduciamo, la granularità emotiva. Sembra una scommerta grandiosa. Nessuno mi ha mai detto una cosa del genere. La granularità emotiva. Che cosa vuol dire granularità emotiva? Ce lo dice lei stessa. Il nostro cervello dà un senso a quello che succede a livello fisico in relazione a tutto ciò che accade intorno a noi. La granularità riguarda il numero di dettagli. Ecco, cosa vuol dire granularità? Il numero di dettagli, la precisione e la specificità del modo in cui il cervello sta creando emozioni. Attenzione, riprendiamo sta cosa. Il nostro cervello dà un senso a quello che ci succede a livello fisico in relazione a ciò che accade intorno a noi. Ecco. Ecco la causa. Il nostro cervello dà un senso a quello che ci succede a livello fisico in relazione intorno a noi. Sta facendo una fotografia. Io dovrei chiedere per quale buona ragione questo organo dà un senso a quello che ci succede in relazione. Perché fa questo? Qual è la buona ragione? Perché questo cervello cerca di dare un senso a quello che succede a noi. Certo. È un organo. Ed è un organo. Ma ve lo sta dicendo lei che questo è un organo di mediazione ed è un organo come il cuore il quale o il polmone il quale fa girare l'aria e il cuore fa girare il sangue per un unico fine, per mantenere in piedi tutto l'individuo. E quest'organo che fa parte di tutto l'individuo, qual è il suo fine? Quindi, simile a quello del cuore, interpreta tutto ciò che gli viene dal corpo. Vedete dove sta? Sta questo cervello qui, le cellule stanno qui. Sono cellule sensibili, capaci di interagire, di ricevere informazione dal corpo e in base all'informazione del corpo, dato che ha una finalità, attenzione a questo concetto, è un organo, ha una finalità a interagire per difenderci, questa è la finalità. La nostra Barrett parla di questo? No. Quindi la sua mappa cognitiva che riguarda il cervello è completamente diversa dalla mia. Quindi anche la sua causa delle emozioni è terribilmente di superficie e semplicemente non risponde alla domanda per quale buona ragione quest'organo fa, interpreta, quello che gli capi, che riceve dal corpo in relazione al mondo esterno, per quale scopo, per quale fine, per quale buona ragione. E ne si chiede se quest'organo effettivamente percepisce correttamente quello che viene dal corpo e percepisce correttamente anche quello che viene da fuori. Per questo motivo è importante imparare che succede a livello fisico, la granularità riguarda il numero di dettagli, la precisione, la specificità del modo in cui il cervello sta creando emozioni. Attenzione, in sintesi, cosa ci sta dicendo? Che la granularità, vuol dire che abbiamo una bassa granularità, un basso livello emotivo, quando non specifichiamo bene quello che ci sta succedendo, ma rispondiamo a quello che succede nel corpo con delle generalizzazioni come sto bene, sto male, sto uno sfessato, sono sfamato o altre cose di questo genere. La nostra Barrett dice, dà una connotazione terribilmente negativa a una cosa del genere, dice che una cosa del genere non va bene, non funziona, noi dovremmo, dopo aver fatto delle generalizzazioni, riuscire a fare una granularità molto più dettagliata, entrare nei dettagli, rapportarci nello specifico e quindi dare delle parole, dei concetti specifici a quello che ci sta succedendo, che definirlo rabbia, di tristezza, emozione, nostalgia, qualunque stimolo a capire perfettamente quello che viene dal corpo, che cosa possa essere e non essere e definirla soprattutto. Infatti parla di questo, il numero di dettagli, la precisione, la specificità nel modo in cui il nostro cervello sta reagendo a delle reazioni fisiche del corpo e queste reazioni fisiche del corpo nascono da uno squilibrio del corpo perché questo è fuori equilibrio e quindi la mente tenta di interpretare più la mente è specifica nell'interpretare e più noi diamo voce e riusciamo a dare senso e significato alle nostre emozioni. Non mi soffermo sul fatto che questo ha una grande errore di base, non ci sta parlando qual è la causa vera delle emozioni, non ci sta parlando del rapporto fra pensiero e emozione. Da per scontato che ci sia un circuito di rabbia, un circuito di ansia, un circuito qui, che l'unica differenza è se noi siamo un po' grossolani e allora non funzioniamo bene, se invece non siamo grossolani e siamo in grado di dare concetti specifici alle nostre emozioni, allora creiamo emozioni e conoscendone bene la percezione di base potremmo in qualche modo dominare le stesse emozioni. Per questo motivo è importante imparare sempre di più sulle emozioni o meglio, vedi, non tanto sulle emozioni perché sono dei circuiti, o meglio imparare più parole per descrivere le emozioni e più concetti in modo che il nostro cervello abbia gli ingredienti di cui ha bisogno per creare una precisa esperienza invece di interpretarla solo con un sentirsi male, con una faccenda generica. vedete, stiamo parlando di un tipo, stiamo parlando di terapia, ci sta dando un'indicazione terapeutica, cioè per togliersi tutti questi guai emotivi che ci fanno soffrire, noi dovremmo passare da una situazione specifica a una situazione sempre più consapevole, sempre più specifica di quello che ci sta succedendo, cioè quello che gira. ormai da 20 anni nella psicoterapia e dai tempi di Freud gira sempre lo stesso discorso, di rendere consapevole ciò che consapevole non è. Ora faccio rabbrividire tutti i miei colleghi e dico scusate, si vede che la Barrett non ha esperienza clinica perché se avesse esperienza clinica non direbbe una stupidata del genere, perché sono proprio quelli che hanno più capacità o che tentano in tutti i modi di dare risposte specifiche e dettagliate a quello che gli sta succedendo, che si chiedono il modo dettagliato di capire cosa gli succede, cosa stanno pensando, cosa non stanno pensando, sono proprio quelli e molti di loro stazionano regolarmente dagli psicoterapeuti o dai reparti psichiatrici addirittura. Ebbene, se noi non partiamo dall'esperienza clinica e non ci domandiamo come mai, ma semplicemente diciamo se uno va dallo psicoterapeuta o va a finire nel reparto psichiatrico è malato, c'è un circuito sbagliato a livello fisico c'è un circuito sbagliato, c'è qualcosa di sbagliato a livello fisico per cui quello fa così. E non ci dendiamo per quale buona ragione questa persona. E prendiamo in considerazione soprattutto l'esperienza del depresso che tutti viene catalogata come un'esperienza fisica, cioè una malattia fisica, di un circuito fisico rotto. Ebbene, Ora, se io, e come spesso tutti noi, passiamo una notta taccia, non dormiamo, la mattina dopo siamo stanchi morti, non abbiamo voglia di andare a lavorare, nulla di nulla, c'è una differenza tra le persone. E non devo fare le fotografie solo in un senso, devo fare le fotografie in un senso e nell'altro. Devo fare le fotografie di come una persona sta creando emozioni invalidanti e come un altro invece non crea nelle stesse condizioni, con lo stesso dialogo interno, non crea le stesse reazioni invalidanti o emozioni invalidanti. ebbene io, spesso e volentieri, io penso che molte persone, soprattutto quelli che sono più attivi, molte mattinati, alcune mattinate, in alcune mattine particolari, dopo magari una notte insonne, oppure che hanno mangiato male, che hanno bevuto, sono ubriachi, e rimangono mezzo ubriachi fino alla mattina, per cui il corpo, in questo caso in effetti, ha le sue necessità, dice la mente, senti, oggi non ho nessuna voglia di andare a giro, sono stanco, bisogna riposare, ho le mie esigenze, dice questo cervello, lo dice anche lei, e allora qui c'è la differenza, è vero, ho ragione, le emozioni nascono dalla differenza di interpretazione, di questi segnali che vengono dal corpo, ma la differenza di interpretazione è un pensiero preciso, di pericolo o di non pericolo, di cosa buona o di cosa cattiva, di senso positivo o di senso negativo, ma l'interpretazione è la valutazione, ecco a questo punto, che non è tanto un'interpretazione, ma è una valutazione, per una finalità, è la valutazione per un fine specifico, che mi può creare una reazione, in un modo piuttosto che in un altro, e allora prendiamo l'esperienza, quindi, io sono ubriacato, io con la Gianni amico, psicologo, psicoterapeuta, famoso in tutto il mondo, per le minchiate, che dice, si è alzato tutto sfessato, una mattina, non ha nessuna voglia di fare niente, esattamente come quello, come ciò che mi riferisce in genere, un autentico depresso, farmacoresistente, il depresso farmacoresistente, un'esperienza clinica, cosa dicono, il linguaggio interno del depresso, farmacoresistente, dice, non ho voglia, non ho voglia di nulla, non ho voglia di fare nulla, come mai dottore, mi sono svegliato, come mai la mattina, non ho voglia di fare nulla, perché non ho voglia di fare nulla, questa è la domanda, e a questa domanda c'è da rispondere, e io dico, guarda anche io, mi sono svegliato tutto sfessato stamattina, facciamo, confrontiamo le nostre esperienze, tuo dialogo interno, cosa hai sentito, cosa hai provato, beh, ho provato le tue stesse cose, però, a differenza di te, non mi sono chiesto, come mai mi sento così, chiedete, chiedete, rafforzate su questo dialogo interno, a differenza è su questo dialogo interno, eh, le sensazioni sono le stesse, che vengono dal corpo, ma il depresso, quello che rimarrà impigliato, nelle proprie emozioni di tristezza, si chiede, come mai mi sento così, e io, che sono lo psicologo, più minchione di questo mondo, dice le minchiate più grosse di questo mondo, non dice la stessa cosa, dico, hm, tenendo conto della finalità, di quello che devo fare, che palle stamattina, hm, non ho voglia proprio di fare nulla, che palle, l'altro dice, come mai mi sento così, c'è la stessa esperienza, non ho voglia di fare nulla, il corpo è tutto ammaccato, non ha voglia di alzarsi, di lavorare, uno dice, io, dico che palle, quello che è depresso, dice, come mai, ecco, cerchiamo di analizzare la differenza tra questo come mai e che palle, quello che ci esce di bocca, ha sempre una sua ragione, è un fatto, quindi dobbiamo sapere scoprire la ragione di questa differenza, quello che dice, come mai mi sento così, perché il punto, hm, non è nell'interpretazione semplicemente delle sensazioni, è della valutazione che do a quelle sensazioni, e questa valutazione nasce, dalla nostra banca dati di uomini, gli animali non fanno, non possono fare valutazioni del genere, perché non ricordano nulla, dipendono dalla nostra banca dati, dalla nostra memoria lunga, conoscere o riconoscere, che differenza c'è allora? il mio depresso dicendo come mai mi sento così, la sua banca dati, hm, ha dei dati che hanno portato a una valutazione della vita stessa, perché c'è una valutazione, un'aspettativa della vita stessa, di come dovrebbe svolgersi la vita, di come dovrei fare, di come dovrebbe essere la mia vita, alla base di quella domanda, come mai c'è una valutazione, che la vita non ha variazione, di un continuum di benessere, di staticità, di equilibrio, quello che poi lei alla fine augura, che ci sia, e che dobbiamo trovare in tutti i modi, una stabilità, un benessere più o meno stabile, dove ci sia un bilanciamento equilibrato del nostro, ecco, il depresso si aspetta che nella nostra vita, nella nostra vita ci sia un bilanciamento equilibrato, più o meno sempre lo stesso, appena le sensazioni, le percezioni fisiche non corrispondono a questo, e beh ragazzi, il mio cervello, il bene è una non variabilità, il male è la variabilità, è l'uscita da questo equilibrio, quindi la domanda è come mai mi sento così, come farò, ora devo andare a lavorare, come farò ad andare a lavorare, sentendomi in questo modo, il nostro depresso, vogliono fare pure le cose per bene, vogliono riuscire la finalità di quest'organo, e noi siamo effettivamente animali sociali, ma non è perché essendo animali sociali, come dice, noi prendiamo l'uno dagli altri e quindi andiamo in equilibrio così, no, l'altro ci può giudicare, e per noi, l'essere giudicati dall'altro, è un pericolo, è un benessere, una benedizione, ma anche il fallimento su questo è un grandissimo pericolo, e questo ci fa reagire, o con la rabbia, o con la tristezza, o con la chiusura totale, noi stessi, se non troviamo nessuna soluzione, beh, lo psicoterapeuta con le anni amiche dice minchiate, che è diverso da tutte, dice super minchiate, quando si alza in quelle condizioni, dice che palle, che palle cosa vuol dire, perché io dico che palle, e questo è testimonianza mia, io dico che palle, perché io mi aspetto che la vita ha delle grosse oscillazioni, che la vita è fatta di problemi da risolvere, per me la vita è fatta di problemi da risolvere, non di una vita che deve avere un funzionamento di benessere, quasi costante, e posso accettare solo brevi oscillazioni, dopo è scontato che la vita è fatta di problemi da risolvere, ma la vita è di oscillazioni su questo equilibrio, molto elevate, che mi posso sentire malissimo, che non ho voglia di fare un cacchio, che questo è normale, e non lo valgo come un pericolo, per il fine, per le cose che devo fare, è così, prendo atto, dico che palle, ne facevo a meno, perché dico che ne facevo a meno di stare così, perché se potevo permettermi di riposare, e fare quello che il corpo diceva, di riposarmi, poi andare in equilibrio, e mi mettevo lì a riposarmi, ma c'ho da fare, c'ho due pazienti, fra due ore, ebbene io cosa dico, che palle stamattina, me ne stavo volentieri a letto, su su, dialogo interno con me stesso, dico su suo amico, vai vai, andiamo, andiamo a lavorare, dove si arriva, si mette punto, attenzione, dove si arriva, si mette punto, vuol dire che la mia mente, che è un organo, a servizio del corpo, tenderà di spingere il corpo, a fare, quello che non vuol fare, e lo spingerà fino al punto, che il corpo lo segue, se il corpo segue, questa indicazione, bene, ce la faremo, abbiamo, se non segue però, è solo a quel punto, e per ultimo, e per forza, darò spazio, ai bisogni del corpo, ma intanto, lo comando, e lo forzo a fare, quello che la mia mente, vuole che si faccia, come è detto, che lo spirito è forte, la carne può essere debole, la nostra carne, noi siamo animali mammiferi, quindi il nostro andamento normale, sarebbe, mangiare e dormire, e a trovare Natana, dove ripararci dall'intemperio, ma noi, che siamo diventati uomini, e dove siamo costretti, a comandare il nostro corpo, a fare cose non attinenti, col mangiare, col dormire, o con sfuggire alle intemperie, siamo costretti a fare qualcosa, in anticipo per qualcosa, che serve per mangiare, per tenere in piedi, tutta sta baracca, ma che non ha, un riscontro immediato, spesso è un'autentica fatica, per il nostro corpo, che vorrebbe fare tutt'altro, e la mia mente interpreta questo, lo accetta, e poi gli dice, su su, che palle, proviamo ad andare a lavorare, ma se la mia mente, ha un'idea di come dovrebbe essere la vita, e non vede che la vita è fatta di problemi, e di oscillazioni molto rilevanti, su quell'equilibrio di benessere, che si può rompere notevolmente, ebbene, la domanda è, come mai, mi sento così, o perché mi sento così, e tendo a interpretare, nei dettagli, per poter uscire dalla trappola, e se poi, se poi, perché dico se poi, se poi, come farò per andare, perché dico tutto questo, perché quest'organo è finalizzato, sono in rapporto con la società, ma ho, molti dei depressi, hanno dei debiti pazzeschi con la società, sono dei tiranni, nei confronti della risposta della società, cioè vogliono che la società li applauda, vogliono essere perfetti, vogliono che tutto vada bene, in modo che gli altri, siano da applaudire, e tutto il contrario di quello, che questa Barrett, ci dirà alla fine, come rimedio, per andare, per non cadere in trappola, all'emozione. E ora, rileggiamo ancora qualcosa, per questo motivo, è importante imparare sempre di più, sull'emozione, è meglio imparare più parole, quindi tutta la terapia, imparare le parole, i concetti, aderenti alle emozioni, e non capirne le finalità, non capire la vera causa, che io sto producendo, pensieri di pericolo, non sono adeguato, ciò da fare è questo, il timore, è che posso avere maledizioni, e una maledizione, se la valuto negativamente, perché è la mia valutazione, perché io posso anche dire, come il fatto faccio, io faccio, e lascio libere le persone, di odiarmi, io sarò quieto, le loro maledizioni, da qui mi entro, da qui mi escono, vedete dove sono quieto, dove sono svincolato, dalla realtà esterna, il problema, che quest'organo, è un organo di mediazione, cioè il corpo, e il mondo esterno, il mondo esterno, fatto di persone, che hanno esigenze, nei nostri compongi, con cui interagiamo, da cui soprattutto, vogliamo delle cose, e le vogliamo, meritandocele, dice perché? ma scusate, ma la vostra educazione a scuola, qual è stata? Eh, se mi ripeti, da qui a qui, ti metto 8, poi ti sorrido. Eh, allora, quindi, faccio un grosso appunto, alla Barrett, e dico che in effetti, ha poca esperienza clinica, ragiona, proprio stando in un laboratorio, e abbia, vedete, o meglio imparare più parole, per descrivere le emozioni, più concetti, in modo che il nostro cervello, abbia gli ingredienti, di cui ha bisogno, per creare, una precisa esperienza, una precisa esperienza, invece di interpretare, solo come un sentirsi male, ebbene, stranamente, se il mio depresso, o io, faccio un'esperienza, dicendo, che palle stamattina, mi sento male, va, va, su, andiamo a lavorare, io non vado a finire un casino, ma è proprio colui, che fa esattamente, va nei dettagli, va a cercare i motivi, per quale buona ragione, mi sento così, o perché mi sento così, e voglio scoprirlo, perché se no, se no, se no, è proprio lui, che verrà definito, e viene definito, depresso, senza speranza, non io, e ora, guardiamo, tanto per finire, ecco qua, nei dettagli, cosa dice, il cervello umano, nasce, preimpostato, con circuiti, con determinate azioni, che non hanno un significato emotivo innato, anche questo, che possa nascere preimpostato, lo vede in un altro modo, preimpostato, perché ha come finalità, il protegge, questo, è un organo, quindi ha finalità, mentre qui si parla, di circuiti, che hanno un significato, non emotivo innato, il cervello, cerca di dare un senso, ai dati sensuali, che provengono dal corpo, e dall'ambiente, il cervello, riceve informazioni, tramite sensi, tuttavia, queste informazioni, sono state, contenute da qualcosa, che le causa, sono state, causate da qualcosa, che le sa, ma il cervello, non ha accesso, a questa causa, vedete, com'è generico, questa cosa, come mai, mi sento così, possiamo avere accesso, a questa causa, che palle stamattina, qual è la buona ragione, mentre qui si dà per scontato, che, fa un, praticamente, una semplice fotografia, reagisce, fra, le percezioni del corpo, il mondo esterno, e in base, a conoscenze precedenti, però, il cervello, non ha la capacità, non ha accesso, sa, oscuramente, che possono essere, causate da qualcosa, ma non ha accesso, a questa causa, e cerca, di indovinare, la causa, in base, a un conoscere, riconoscere, e così, che il cervello, crea le emozioni, ciò significa, che ha un certo controllo, sulle percezioni, ma, devo concludere, che non hai, assolutamente, nessun controllo, sulle emozioni, anche perché, non ti chiedi, se il tuo cervello, è in grado, di percepire, correttamente, quello che sta percependo, quindi, come dire, è un organo, che funziona, a caso, eh, ci dice, che possiamo avere, più, controllo, solo, sulle interprezioni, eh, delle percezioni, sensoriali, che arrivano al cervello, la granularità emotiva, dice, che il cervello, ha, ha un senso, da un senso, a quello che succede, a livello fisico, in relazione, a ciò che accade, intorno a noi, eh, e va bene, abbiamo già visto, abbiamo, eh, sensazioni spiacevoli, che derivano, ecco, quella causa, che non conosci, troppo bene, verso la fine, del video, ce la svela, questa causa, eh, abbiamo, sensazioni spiacevoli, che derivano, da un bilancio, di energie, deficitarie, e avremmo, meno occasione, per utilizzare, le nostre conoscenze, sulle emozioni, per creare, emozioni negative, mentre, potremmo avere, più opportunità, per creare, emozioni positive, e altre cose, di questo genere, quindi, quella causa oscura, che tenda, di conoscere, non la conosce, alla fine, dice, la causa oscura, eh, dell'interpreazione, sta nel fatto, abbiamo, sensazioni spiacevoli, che derivano, da un bilancio, di energia, deficitare, quindi, molto generico, stranamente, va contro la genericità, e ci presenta, una causa generica, bilancio, di energie, deficitare, avremo, meno occasione, se abbiamo, questo bilancio, di energia, deficitario, che, come dire, mi sento male, abbiamo, meno, meno occasione, per utilizzare, le nostre conoscenze, sulle emozioni, cioè, quelle conoscenze, specifiche, che ci vorrebbero, dire, nei dettagli, i concetti, che riguardano le emozioni, e quindi, abbiamo, più opportunità, per creare, emozioni negative, mentre, potremmo avere, più opportunità, per creare, emozioni positive, come, la gratitudine, la compassione, la gioia, il cervello, trasferma, trasforma, materiali, grezzi, attraverso, questo processo, per creare, le emozioni, ma sono, no, ma lei stessa, dice, che, il nostro cervello, non fa altro, che elaborare, questi materiali, crezzi, per creare, emozioni, il nostro cervello, io stesso, non crederei, a queste cose, se non facessi, la ricercatrice, questo, tu, sei l'architetto, delle tue esperienze, e allo stesso modo, puoi, influenzare, anche, le esperienze, degli altri, qui ci parla, nei dettagli, poi, che queste esperienze, che siamo, animali sociali, che prendiamo, le cose, l'uno dall'altro, che quindi, il rapporto, è proprio il rapporto, con l'altro, che ci può far passare, da, un, da emozioni, negative, o interpretazioni negative, a comportamenti, di altruismo, di benevolenza, nei confronti degli altri, che dovrebbero, spingerci, a creare, emozioni negative, positive, quando prima, stavamo creando, emozioni, negative, quindi, le emozioni positive, sono, la, gratitudine, la compassione, la gioia, quindi, una trasformazione, di materiali, grezzi, e portarli, verso la gratitudine, la compassione, e la gioia, ecco, e io, vi chiedo, e chiederei, alla, alla nostra, neuroscienziata, ma, dimmi, ma, siamo in grado, quant'è, che un uomo, trova gratitudine, compassione, gioia, felicità, ma, posso, forse, provare gratitudine, se sto interpretando, hm, che l'altro, in base, alla valutazione, che do delle cose, di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è minaccioso, di ciò che non è minaccioso, ed è questa valutazione, dell'azione, dell'altro, in base a una mia aspettativa precisa, che io non posso provare gratitudine, e per trasformare, una mia reazione di vendetta, perché ho valutato l'altro, uno stronzo, o l'altro è una stronza, che me l'ha fatta, ma è una mia valutazione, che dice, che non ci si comporta così, che ci si dovrebbe comportare, vedete, abbiamo quello che io parlo sempre, di un lettino di propuste, abbiamo di una misura, con cui noi accogliamo, quello che viene dall'esterno, quello che viene dall'esterno, non è pacifico, non è semplice, questo rapporto, fra l'interpretazione del nostro corpo, e quello che succede all'esterno di noi, perché quello che succede all'esterno di noi, viene valutato, e viene valutato in base a una misura precisa, di ciò che è bene, di ciò che è male, e ciò che è bene, ciò che è male, e questa è una banca dati, dove proprio le reazioni, di equilibrio e di squilibrio, del nostro corpo, hanno stabilito come una specie, di memoria, già codificata, con cui noi interagiamo poi con la realtà, per questo motivo è importante imparare sempre più sulle emozioni, e quello che io dico, per questo motivo, dobbiamo imparare sempre più sui giudizi, quest'organo, oltre ad avere una finalità, è in grado di produrre giudizi di esistenza e di valutazione, in base a che? In base ai bisogni del corpo, si incentra il corpo, e se io ho un bisogno, ho caldo, ho freddo, e vedo un albero, e c'è ombra nell'albero, io sono molto accaldato, e metto un giudizio di valutazione, se non ho né caldo né freddo, vedo l'albero che c'è l'ombra, e faccio una semplice constatazione, quell'albero lì fa ombra, fa ombra, e non sto valutando, perché non sto valutando, se quell'ombra di quell'albero, mi fa bene o fa male, perché non ho nessun bisogno, ma se avevo un bisogno, ero molto accaldato, o avevo molto freddo, la valutazione è che quell'ombra poteva aumentare il mio freddo, e io andavo altrove, se l'ombra invece può togliere il mio caldo, io mi avvicino all'ombra, è tanto complicato, capire le cose, poi dov'è il problema? la gratitudine, la compassione, la gioia, ma da dove nascono? Come faccio ad essere grato a qualcuno, se quello mi pesta un piede, e crea uno squilibrio nel mio corpo? Non posso essere grato, posso anche essere grato, se io sono disposto, quindi tolgo le valutazioni di bene e di male, dico che la vita è un cambiamento continuo, tutto mi può capitare, e sto organizzando quest'organo, con una filosofia, con una mappa cognitiva, che dice, il mondo varia continuamente, quello che è importante, è sperare che il mondo mi vada a modo mio, sono disposto a dire, sia qualunque no, la vita mi dà, e esercito questo mio cervello, questo mio organo, adesso è disposto a dire sì, a tutti no della vita, allora potrò avere gratitudine, compassione per gli altri, gioia, se no, e questo si parte da un presupposto, che noi siamo nati liberi e ragionevoli, no, noi non siamo nati liberi e ragionevoli, questa cultura psicologica, è veramente una subcultura dell'uomo, è possibile, come si fa, a risolvere i problemi dei nostri pazienti, con una subcultura del genere, e io ho da lottare contro questa subcultura, e cerco di poter far capire alle persone, che dobbiamo capire alcune cose della nostra mente, quello che la nostra mente può fare, che non può fare, perché questo è l'organo che ci risolve i problemi, di come questa mente può incepparsi nel fare, nel tentare di servire al meglio noi stessi, dove si può inceppare, come si può inceppare, queste domande dobbiamo fare, non fare delle descrizioni, che sembrano delle grandi descrizioni, e che sono semplicemente suggestive, parole nuove, che poi non dicono un cavolo di nulla, se le traduciamo, granularità, vuol dire, gradualità, nel valutare in modo sempre più specifico qualcosa, anziché in modo generico, quindi bassa e gradualità, alta e gradualità, granulare e graduale è la stessa cosa, punto è, dobbiamo far capire cosa quest'organo può fare o non può fare, la tecnica ipnotica che io uso, è in grado di aiutare le persone, questo è il lavoro che dobbiamo fare su di noi, tutto il resto è il lavoro inutile, sono cent'anni che facciamo lavori inutili su di noi, e sono cent'anni che andiamo a finire negli ospedali psichiatrici, perché facciamo lavori inutili su noi stessi, perché partiamo da presupposti sbagliati che riguardano quest'organo qui, abbiamo strumenti notevoli, l'ipnosi, non l'ipnosi, è far fare qualcuno qualcosa in modo preciso, e perché io posso far fare a qualcuno una cosa, un'azione in modo preciso, vuol dire che devo conoscere perfettamente il funzionamento della mente, e se devo restringere il campo dell'attenzione, perché lo devo fare, e lo devo fare perché la mente funziona in un modo, non funziona in un altro, attenzione non è tutto relativo, ci sono troppe discorsi di subcultura totale che riguardano gli uomini, che da ribaltare, però questo gioco tra una spiegazione, anche molte volte incazzata, e l'incazzatura è una tecnica di comunicazione ipnotica, che mette un po' da parte la testa delle persone che sono convinte che la mente funziona così, sono super convinte che il mondo è fatto come pensano loro, e stanno male, se il mondo andava come dicono, e se la mente funzionava come credono, non dovevano star male, se stanno male vuol dire minimo di stare ad ascoltare un po', ma tutti i percorsi spirituali, infatti, molte volte, sono basati sull'ubbidienza, proprio perché se non riusciamo a togliere di mezzo certe credenze che riguardano la mente, che riguardano la vita, ecco, la differenza fra me, che mi alzo sfessato, dico che palle, e quella delle persone, dico come mai mi sento così, e poi non fa nulla tutto il giorno, sta nella differenza, di quello che mi aspetto, che la vita sia, di come dovrebbe essere, e quello che il depresso sospetto della vita sia, e poi l'altra grande differenza sarà dal fatto, di quello che so, di come la mia mente si inceppa, questo glielo dovrò insegnare al mio depresso, perché se no non lo tiro del tutto fuori da questa trappola, buongiorno, vediamo,